Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovissimo video Io sono Mr. Brain e oggi ragazzi siamo qua con una nuovissima top sul mio canale E da un bel po' che non mi faccio vedere, che comunque non mi mostro Però comunque ragazzi vorrei ritornare, fammi un po' vedere nelle intro che faccio Almeno perché comunque vedo tanti commenti che dicono che non sanno chi sono Alla fin fine perché è vero, c'è pochissimo di video, uso la mia faccia eccetera eccetera Di solito parlo e basta Comunque ragazzi oggi vi farò vedere 5 attacchi ai presidenti in dirette tv Ovviamente ripresi dalle telecamere, davvero molto ma molto pericolosi Ovviamente non vi faccio vedere nessuna morte, nessuna nulla perché mi censurerebbero tutto Però comunque diciamo che sono attacchi abbastanza violenti di cui ce ne sarà uno con un'arma da fuoco Dove sarà ben visibile questa pistola e lì sarà davvero davvero assurdo Comunque ragazzi vi invito a mettere un bel like e commentare alla fine di questo video Se questo video vi è piaciuto oppure no Ovviamente condividere questo video con tutti i vostri amici E se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale E se i vostri amici non l'hanno ancora fatto ovviamente fateli iscrivervi al mio canale Da Mr. Barini tutto, io adesso vi lascio con le clip E io vi rimando ai miei prossimi video che sarà molto ma molto presto Ciao ragazzi E io vi rimando ai miei prossimi video che sarà davvero assurdo E io vi rimando ai miei prossimi video che sarà davvero assurdo Che happo avicinato ai miei prossimi video che sahi nel corso Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Get him out, get him out Get him out Get him out Get him out Get him out, get him out Get the end of it Alright stay back Get him out 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.